Venerdì 30 settembre Gianni Alemanno sarà a Rieti per presentare con Aria Rieti presso il Fosso di Elm il libro Verità Capitale, Caste e Segreti di Roma. Oggi, dopo l'archiviazione dell'accusa per mafia nei suoi confronti e davanti al fallimento di Marino Prima ed il triste spettacolo offerto dei 5 Stelle oggi, l'esperienza di Alemanno diventa un'importante testimonianza sui mali di una città che per decenni è stata la banca elettorale della sinistra italiana. Abbiamo passato troppo tempo a piangerci addosso, ha dichiarato Chicco Costini, presidente di Aria Rieti. L'Italia ha necessità di una forza politica in grado di interpretare la sintesi tra istanze sociali e valori identitari. È un Gianni Alemanno finalmente liberato dalle accuse infamanti di commissioni mafiosi. È un personaggio fondamentale in questo processo di reaggregazione.